Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video, buon lunedì Questo video lo sto rifacendo da capo e ora vi spiego anche il perché Allora, diciamo che ieri, ok, ho dovuto registrare, poi ho dovuto, sembra una cosa brutta Ho registrato una cosa molto, un file molto pesante, non voglio darvi indizi per ora Un file molto pesante che mi occupa tanto spazio sugli hard disk Quindi ho spostato un po' di video e ho cancellato alcuni video grezzi Tra cui, e si mette ovviamente a piovere, il video di oggi, la survival Che avevo registrato con giorni di anticipo per portarmi avanti E che ho poi cancellato per sbaglio, andiamo a dormire perché è cadono i fogli E quindi sì, ho cancellato il mio stesso video Che doveva essere per oggi, quindi mi trovo adesso a doverlo rifare E scusatemi se uscirà un video corto E molto sempliciotto perché, ragazzi, ho perso tutto Non so se ne ho mai perso una, forse, cioè, sicuramente sì Non so se mi è mai capitato di doverlo proprio dire anche perché, appunto, me ne accorgo all'ultimo Però, vabbè, ragazzi, è così Che ci dobbiamo fare? Mi dispiace, ok? Mi dispi un sacco Tra l'altro oggi, ragazzi, alle 18 uscirà un video Molto, molto delicato e molto importante Forse è il più importante che pubblicherò mai su YouTube E quindi ho detto, cavoli, cioè, devo concentrare tutte le mie energie oggi su quello E posso perdere il primo video, sono davvero stupido Quindi, detto ciò In questo video avevo creato una minuscola farm, tra virgolette Che in realtà non funziona ancora E mi mancavano anche dei materiali che ho recuperato adesso che mi sono accorto di doverlo rifare E quindi adesso la facciamo funzionare del tutto Era una cosa che avevo spiegato molto bene E vabbè, ho perso tutta la spiegazione Insomma, ho fatto moltiplicare le pecore Ne ho tirata fuori una e l'ho portata in questa gabbia di vetro Perché una delle idee del video era di costruire una farm automatica di pecore Ma in questo caso di lana di pecora, soprattutto Quindi, come funziona? La pecora sta in questa cella Ha di fianco un dispenser che la punta Il dispenser contiene una cesoia Ora, se noi avessimo una redstone torch Che ovviamente non mi sono portato Vi farei vedere, e vi faccio vedere Che mettendo, in questo caso, la redstone torch E attivando il dispenser con la cesoia E succede questo Il dispenser va a tagliare la lana dalla pecora Quindi, con questo meccanismo Con questa novità introdotta nella 1.14 Noi possiamo automatizzare la raccolta Cioè la tosatura delle pecore La raccolta di lana Ed è una cosa fighissima Basandoci su questo nuovo meccanismo Vi avevo spiegato come creare Una farm full automatica di lana Che è una cosa che voglio fare Quindi avevo creato questa cella Dicendovi che poi avremmo fatto Una farm più grossa, tutta connessa Con i 16 colori In modo da continuare a produrre lana su lana su lana Accumularla senza dover fare niente E avercela quando serve per le costruzioni Ragazzi, come funziona? Allora, la pecora Per far crescere la lana Ha bisogno di un blocco d'erba Quindi, in questo modo Con il blocco di vetro Che funziona come blocco trasparente L'erba di fianco al blocco su cui è la pecora Permette di far ricrescere l'erba sotto la pecora In questo modo Quando cresce l'erba La pecora può mangiare l'erba E trasformare il blocco di nuovo In un blocco di terra E in questo modo Gli ricresce la lana Permettendo poi al dispenser di ritosarla Ora, ragazzi Una volta tosata la pecora Dove va a finire la lana? La lana, essendo che lei deve stare su un blocco Non va a finire da nessuna parte Perché se fosse stata su una tramoggia Verrebbe assorbita Ma il blocco è necessario sotto la pecora Quindi non si può spostare da lì Mettere una tramoggia sotto non funzionerebbe Perché la tramoggia non assorbe Un drop che sta un blocco sopra Ma al massimo mezzo blocco Quindi per raccogliere il drop Molto semplicemente Dobbiamo utilizzare un altro meccanismo Quindi qui avevo preparato un esempio Non avevo ancora il materiale Ma lo facciamo per bene Quello che dobbiamo fare È scavarci un attimino lo spazio qui Intanto Ok Andiamo a mettere la nostra chest di raccolta Qui Questa qui dietro ho sbagliato Andiamo a prendere una tramoggia La tramoggia va messa che punta ovviamente alla chest In questo modo Sopra la tramoggia si mettono delle rotaie Che sono tornato a prendere nella mineshaft Che abbiamo esplorato insieme E sopra le rotaie Si mette un minecart Con tramoggia Che deve stare lì Fermo e immobile Tant'è che adesso Possiamo anche Richiudere qui La terra Vediamo se ha già assorbito qualcosa No È scomparso il drop a quanto pare Comunque ragazzi In questo modo Se Tosiamo la pecora La pecora Perde la lana Il minecart Con tramoggia È in grado di assorbire il drop Attraverso un blocco Di passarla la tramoggia sotto E di metterlo nella chest O un sistema di raccolta dei drop Quindi in questo modo Abbiamo creato una farm Totalmente automatica La cosa che mancherebbe Per farla funzionare Senza il nostro aiuto È un clock Che determina Un impulso continuo Al dispenser In questo caso Possiamo fare un clock In diversi modi Possiamo utilizzare due tramogge Che si passano All'infinito Un blocco Permettendo di creare Un impulso continuo Nel tempo di redstone Oppure possiamo Creare un clock Con un sistema Molto semplice Di repeater Che vi faccio vedere ora Oppure con i daylight sensor Che a seconda Di Della luce Mandano un impulso di redstone In quel modo magari Fare un clock Che funziona Magari una Due volte al giorno Cose di questo tipo Una via di mezzo È un po' difficile da trovare Però in questo caso Vi faccio un esempio Molto semplice Noi possiamo fare Una cosa Di questo tipo Quindi ci mettiamo Tre pezzi di redstone Tre pezzi di redstone Un repeater Che punta da una parte Così Uno che punta Dalla parte opposta Così Magari lì mettiamo Anche un ritardo Che tanto Ci va bene lo stesso Prendo la torcia Eccola qui La metto Di fianco alla redstone E la tolgo subito Così Come vedete Si è creato un impulso L'impulso Se portato al dispenser Ottiene questo Fa questo Quindi continua Ad attivarlo Come vedete La cesoia Non viene consumata Affinché ovviamente Non tosa la pecora Questo Continua a funzionare E Semplicemente Possiamo lasciarlo così In questo modo Questa pecora In questa cella Verrà farmata In automatico Tutta la sua lana Verrà raccolta In automatico E io non devo fare Nulla Aggiungo un appunto Che mi è venuto in mente Mentre sto editando Esiste anche L'observer block Non ricordo Se l'observer block È in grado Di captare La differenza Tra blocco di terra E blocco d'erba Quando cresce O viene tolta l'erba Se dovesse essere in grado Di captare La differenza Di quel blocco E penso proprio di si Devo testare Adesso sto editando Si potrebbe semplicemente Mettere l'observer block Che controlla il blocco Sopra cui sta la pecora In modo che Appena l'erba viene mangiata E quindi ricresce la lana Sulla pecora Manda un impulso di redstone Che tosa la pecora Quindi si toserebbe la pecora Solo quando necessario E di fatto sarebbe Il metodo Da utilizzare Non ci avevo pensato subito Ma Se funziona Si utilizzerà quello E sicuramente Poi lo implementeremo Ah ecco Vedete La lana l'avevo raccolta A mano A quanto pare Per questo poi Non è andata nella tramoggia Lasciamo un pochino qui L'unico inconveniente Di questo tipo di clock Che è molto veloce È il fatto del suono Quindi se lo fate Lontano dalla base Non vi disturba Se lo fate sotto la base Sentite questo clock Continuo E sinceramente Da fastidio Cioè il clock Non fa rumore Però il dispenser attivato Si Ed è abbastanza fastidioso Quindi Lo lasciamo lontano E in quel caso Non ci disturba per niente Ecco E questa era una cosa Quindi una farm Totalmente automatica Di lana L'unica cosa Che va introdotta Poi dal Dallo user Dal player Sono le cesoie Però È comunque una farm Totalmente automatica Ragazzi Perché Funziona da sola Così come i drop Li devo raccogliere a mano Anche le cesoie Le inserisco a mano Ovvio che Ne ho messo una Nel dispenser In una farm finale Quando faremo la farm Di 16 Lane Di 16 tipi di lane Potremo inserire 9 cesoie A dispenser Magari con una tramoggia Che gli porta A una ricarica Da una cesta E quindi potenzialmente Anche Avere una scorta Di cesoie infinite Quindi quello Non è per niente importante Ragazzi Ed è solamente Un dettaglio Detto ciò L'altra cosa Di cui mi ero occupato Che adesso A vederlo Sembrerà una stupidata Ma Ci avevo fatto Tutto il ragionamento Avevo lavorato Disfato È che qui Allora Innanzitutto Ho tappato Ho tappato la scala Qui L'avrete già notato Ho messo Una scala Che scende Da questa parte Quindi all'interno Di questa torretta E c'è una scala Che sale Ora qui Andrebbe decorato Tutto con qualcosa Pensavo magari Di mettere Delle stanze Intermedie Nella torretta È molto bello Che qui Vediamo ancora Il versante Della nave Leggermente modificato Con la porta Che separa Le due aree E salendo La scala Ci porta esattamente Qui In questo Piano Con la scala Un po' in mezzo Le balle Che però Non dà troppo fastidio Perché il piano È davvero Molto molto grande Ho tagliato Tutto a questa altezza Con dei mezzi blocchi In modo da ricavare Più spazio possibile Ed è effettivamente Un locale gigantesco Qui potremo Decorare come vogliamo Possiamo addirittura Pensare di Creare dei soppalchi Su queste pareti Una e due pareti In modo da Ottimizzare ancora Più spazio Nel caso ci fosse bisogno Ma penso che Vada bene anche così Per salire invece Nel sottotetto Che ovviamente Sarà anche quello abitabile Ho pensato di usare Un ascensore Di impalcature Visto che abbiamo provato A fare Ascensori di più o meno Tutti i tipi A parte quelli di pistoni Che sono un po' glitchate E mi piacciono poco Sinceramente Ho pensato di fare Questa cosa Quindi ragazzi Ho messo Un sistema di impalcature Per salire E scendere Quindi come Vi faccio vedere Si può salire qui Abbiamo Quest'altro piano Molto grande Questo potrebbe essere Una camera da letto Volendo E C'è da rifinire Qui sotto Perché qua È un'area Inutilizzata C'è un blocco di spazio Qua chiuderei Tutto quanto E metterei magari Incastonate Delle fornaci Delle crafting table Dei blocchi utili Per occupare Per occupare meglio Lo spazio Però Lì Lì sotto Andrebbe chiuso E si occuperebbe Tutto il restante Spazio Magari facendo Un attimino Una scaletta Qui che ti porta Ad altezza finestra O cose di questo tipo Comunque Questo ascensore L'ho un po' Nascosta Tra i blocchi E ho pensato A questo sistema Che secondo me È molto carino E occupa poco spazio Di mettere Le botole Dello stesso colore Del legno Attorno alle impalcature Vedete Queste sono tutte botole E mi ha dato Questo Look A modi Pilastro E mi piace molto È come se Noi entrassimo In un pilastro In questo modo Si può Salire di sopra Esteticamente È carino L'impalcatura Che si vede Un pochino meno Ma volendo Sapete che vi dico Possiamo metterci Anche una porta Le porte diventano Poi un po' scomode Da aprire e chiudere Però in teoria Ragazzi Nulla mi vieta Di metterla A parte il fatto Che Non riesco a metterla Quindi facciamo così Un attimo Allora Togliamo Le impalcature Ok E questo non è un problema Metto qui la porta Non me la fa mettere Sulla scala Giustamente Ho bisogno Del blocco Andiamo a prendere i blocchi Allora Così diventa Indubbiamente più ingombrante Però la cosa è carina Non potrei metterci Una pressure plate Perché se no Andiamo a occupare Troppo spazio Però con la porta Abbiamo questo effetto Direi che ci sta un sacco Le impalcature Sono del tutto nascoste A questo punto Adesso le devo andare A rimettere Ragazzi E perché voglio fare Sta cosa Per sfruttare qualcosa Di diverso Mi piace diversificare Semplicemente Non voglio Eh Avere tutti i metodi Di salita Di ascensore Tutti uguali Avrei potuto farlo Ad acqua Banalmente Però Mi piace l'idea Che abbiamo fatto Qualcosa di diverso Tutto qui ragazzi Quindi credo proprio Che lascerò così E magari vi ho dato Anche qualche idea Qualche spunto nuovo Ora se anche qui Chiudiamo Ovviamente le lascerò Sempre aperte Perché se no Sarà un fastidio Incredibile Però volendo Eh Come vedete Si chiude E non si nota nulla Ci sta davvero un sacco Io posso entrare Chiudere Scendiamo Andiamo Chiudiamo E ragazzi Bellissimo Guardate Occupa davvero poco spazio In realtà Oltre al blocco Di impalcatura in sé Occupa tutti gli spazi attorno Perché ci sono le botole Le porte Lì non ci puoi mettere Nient'altro Ma va bene così Eh Va bene così E soprattutto È L'aspetto che conta L'aspetto è che Appunto c'è un ascensore Di un blocco solo È davvero poco impegnativa Ho deciso anche di mettere Un ascensore Non un'altra scala Per occupare Meno spazio All'interno della stanza Questa soluzione È davvero Fighissima La potrei adottare Anche qui sotto Ma Qui magari Già la scala Ci stava meglio Anche se Anche se Effettivamente Un ascensore Avrebbe Permesso di fare più cose Qui dentro Però boh Secondo me Ci può stare in questo modo E niente ragazzi Per questa puntata Rifatta è tutto Mi spiace Non aver seguito Insieme a voi Il processo creativo Che ha portato a queste due idee Perché dette così Sono un po' semplici Però appunto Ho perso il video Quindi Ve le ho rimostrate Aggiungendo Un qualcosina Spero che Vi siano utili Che vi siano piaciute La farm La andremo poi a replicare Più avanti Con 16 celle Di tutti i colori Sarà molto utile E molto carina E ci sarà utile Anche per costruire Credo il faro Perché non so Se lo farò O di lana Appunto Oppure Di 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 terracotta Che però qui non ho Quindi è un po' un problema Vabbè ci penseremo E poi l'ascensore È uno spunto Che tutti quanti Potete usare Nelle vostre case E per me È un'ottima soluzione Cioè ci sta Non costa molto A livello di risorse Mi piace Quindi ragazzi Detto ciò Noi ci salutiamo Un saluto da Iron Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti